Con la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Prospero Greche e concelebrata dal Vicario Generale Don Gianni Massaro, si chiudono oggi le celebrazioni dedicate al ritrovamento della Sacra Immagine della Madonna di Santa Maria dei Miracoli di Andria. Oggi infatti ricorre il 439esimo anniversario del ritrovamento della Sacra Effigie avvenuta nel 1576. Si tratta di una ricorrenza molto sentita ad Andria che si stringe attorno alla comunità dei padri agostiniani in occasione delle celebrazioni in onore della protettrice della città. E' stato Papa Pio IX, accogliendo la richiesta dell'allora vescovo di Andria, Monsignor Giuseppe Longobardi, a proclamare nel 1858 la Madonna dei Miracoli, patrona principale di Andria e della Diocesi. Successivamente al santuario fu concesso da Papa San Pio X il titolo di Basilica minore nel 1907 e da Pio XI il santuario venne elevato a Basilica nel 1929. Nel corso dei secoli la devozione in onore della Madonna dei Miracoli è cresciuta costantemente come testimoniato dal numero di fedeli che in questi nove giorni di novena hanno affollato il santuario. Nove giorni seguiti costantemente in diretta da Teledeon che in collaborazione con i padri agostiniani ha varato questo nuovo progetto editoriale che ha riscosso grande successo tra i telestepettatori non solo andriesi. Dopo le celebrazioni di oggi il prossimo appuntamento che Teledeon seguirà in diretta è la messa in cena domini in programma il prossimo 2 aprile giovedì santo.